Oddio ma che stra... Io l'ho già giocato ragazzi Comunque vi ricordate Quando ho fatto Five Nights at Freddy's Eh l'ho fatto tre secondi fa Allora oggi faremo il 2 Una notte l'ho già giocata Vabbè la prima notte dei bambini Comunque facciamo un new game Ci sono delle belle persone Vabbè Apple Wanted Grande riapertura Perché riaprite i ristoranti Degli incubi dei bimbi bimbosi Allora Clicca qui per usare la tua flashlight Vabbè se lo sapevo già No Ti prego Allora Faccio subito vedere Vedete qua tutti questi animatronic distrutti Questi sono gli animatronic Del primo FNAF Vedete Bonnie Freddy e Shika Che è da questa parte Vabbè ovviamente non c'è ancora nessuno Questa è la stanza più Questa Si deve stare musichetta Non è Non è Non è E poi qua abbiamo il mio animatronic preferito Sia quello del 2 E dell'1 E chi è? Mi farei avevo già detto prima Nella scorsa Vabbè comunque ve lo faccio indovinare Però mi sa che l'ho già detto Nella scorsa Questa è la maschera E vi voglio dire che a episodio farò le prime due notti a episodio ok E se non mi riescono E se non mi riescono le due Anche posso mettere 40 minuti di episodio per una notte sola Allora io però Io però quitterò Sì Ragazzi Io taglierò Perché per ora Vedete non c'è un cacchio da fare E non è che vi lascio qui senza fare nulla E appena scapperà un animatronico Poi riaccenderò E Vi dirò Poi Vabbè Perché Non credo sia interessante Sto parte dove io Rompo le balle Oppure quando succede tipo qualcosa Al music box Non lo so Magari tengo Perché Di solito alle 2 di mattina Al music box Comincia a scendere Che accada una cosa brutta Kids Cove Game area Tu Tu sei brutto Ok Sei brutto Ok Tanto la prima notte Non si dovrebbe svegliare Questo Cornuto Ok Non c'è nulla Ragazzi Mi metto la maschera Mi sento sicuro così E nulla Andrò Tiene la maschera Per tutto Io faccio una controllatina veloce Vento Non c'è nessuno 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 Oh no Ha sprecato uno di torce Sto male Ecco Ve l'ho detto io Che le due di mattina Non c'era il disastro Oh ti sono tutti però Sono sempre telecamera 4 Allora mi sembra che Quando vieni qua Non si deve mettere la maschera Ok Devevi lasciare Credo ragazzi Carica 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 No puppet Ora che non mi fai il jumps C'è nessuno Ti do uno schiaccio Mi piaccia Veramente Sto guardando molti video Di più un'acqua Ultimamente Fanno vedere come Lutano le acque Vente c'era la pappetta Che usciva Ha messo Freeze room Free Vente Congella stanza Si metteva a strangolare La pappetta E la pappetta E entra dentro Tu devi restare qua No Bonny Bonny Ti pia schiaffi Bonny lo sei Di solito è qua No Qua Bonny Devi suonare nello stage Però Ti togli Sennò ti picchio Bonny Tanto Bonny Da lì non viene mai Grazie Carica Carica Non voglio brutte sorprese Sono le tre di notte Bonny Bonny è sempre qua Vero Bonny Ti pia schiaffi Ragazzi Dov'è Bonny Dai No No Bonny Ti picchio male Dove è andato Qua non c'è 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 Qua non ci può venire Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Ragazzi sto spaventando music box no 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 continuazione non osare fermarti no dai ragazzi mi picchio male ok buonasera anche a lei signor no io mi aspetto un javascript al momento no ragazzi dai no ragazzi mi dove battene ok sono andato su chica chica ragazzi ok no 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 vattene chica 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 vattene ti piglio schiaffi chica non la voglio la capo che è tua ok no 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 ragazzi ok ok ragazzi ragazzi L'urso è qua, l'urso è qua, l'urso è qua Ok Ok Grazie, ed è la prima notte Cioè, mi sto scherzando Mi immagino alla quinta, cioè già la prima notte mi attaccano così Dove se nulla fosse Wow Io mi sto spaventando Finché non c'è nessuno Cavolo Sapevo Oh no, ma sempre Freddy Freddy, ti fa una vita Finché è lontano va bene Non voglio l'intervista Freddy Ma l'intervista a Bonnie Dice tutto Non voglio l'intervista e ti piglio a schiaffi Te lo prometto No, Freddy, però se te non te ne vai Ti giuro, ti prendo quel microfono e te lo metto in gola Veramente, te lo faccio ingoia Bravo Che è successo? Che è successo? Si è bloccato Che è Se ragazzi Che abbiamo fatto la prima dei bambini Ma neanche no La scorsa volta La scorsa volta La seconda notte Ci ha fatto Qua il music box Si scende di già Ragazzi, lo facciamo parlare Dai Non ti ho mutato la scorsa volta Qua il music box Qua è successo? Qua è successo? Siamo in un'altra direzione e rendiamo super figli di bambini. Ci sono altri che non dovrebbero andare a walkerci, ma se si fanno, la freddy head dovrebbe funzionare anche per loro. Quindi, quattro. Io amo i miei personaggi. Hai mai visto Foxy the Pirate? No. Oh, sì, Foxy. Hey, listen, che è sempre un po' twitchy. Non è sicuro se la freddy head trick può funzionare con Foxy. Uh, for somebody to really activate during the night and see him standing at the front of the hall just flash your light at him from time to time those older models would always get disoriented with light light so it's called a system restart or something. Come to think of it, try to try that on anywhere to work something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. That glitch might have carried over to the new models. No, sì, l'ho dimenticato di quello. Allora... non dobbiamo metterci la maschera perché sennò ci ammazza ma bensì dobbiamo flasharla. Cioè, dobbiamo fare così mettere la torcia in faccia. E il resto... ho detto di non dimenticarci al music box. Oh. No, ragazzi, ho sentito il night. È vero. So che si è un boss. No, Balloon Boy se n'è andato! Cosa? Balloon Boy se ne va... Ok, è fatto... No, è cinca, ok. Balloon Boy se ne va già la prima notte? Cioè, prima, la seconda notte. Dov'è Balloon Boy? Balloon Boy è nelle ventole! Mi sembrava che ho visto... No, ti picchio. Ok, sotto i freddi. Ricarica. C'è gente nei condotti. Oddio, mi stanno salendo! Oddio! Maschera. Oddio! 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 Che cavolo! Mi è entrato solo nella stanza! Ma che cavolo! Oddio! Oddio! Ragazzi, mi sono preso un infarto! No, dai! E vanno un po' i ragazzi! Oddio! 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 mi sa che era come Fox cerchiamo di non dimenticarci il music box ovviamente noi le telecamere dobbiamo aprirle solo per il music box terzo ok ok sembra lì devo entrare ah ci non ci ne va non ci ne va ok ok c'è Fox Foxy sono andato ok c'è Per ora... Sono ancora più andati loro Così? Lei non se ne va Ciao 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 Ok Oddio ok Oddio Scusate Sara un po' Va bene ci vediamo Si no terza notte no ragazzi Terza notte no Facciamo così usciamo Vedete che ho prende E torniamo nel Menù ok Così Ah Siamo nella notte 3 Sarà molto più difficile Già le prime due erano difficili Ci vediamo poi dopo Nel prossimo episodio Non otte 3 No notte 3 Grazie a tutti